nicole minetti nicole minetti nicole minetti ex igienista mentale di silvio berlusconi e si è messa su una brutta strada una strada molto brutta per campare per campare cerca di fare quattrini su only fans su only fans ma ma io l'ho già detto da tanto tempo che only fans only fans e presto fallisce presto fallisce perché only fans only fans e website website che ospita che cose piccanti cose piccanti però tu devi pagare per vedere le cose piccanti su only fans ma oggi nessuno vuole vuole pagare per vedere le cose piccanti perché ho già spiegato che noi siamo viviamo nella società liquida dove non ci sono più i valori forti nella società liquida dove non ci sono più i valori forti le girls e le lady la danno via subito 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 gratis per cui nessuno va a vedere le cose piccanti a pagamento il porno è alla frutta poi se una vuole fare la porno girl e non guadagna poi magari si mette a fare la escort la escort ma anche come escort non c'è tripa pegati perché oggi oggi non ci va più nessuno con le escort le escort perché le escort si fanno pagare nella società liquida le girls e le lady la danno via gratis gratis perché non ci sono più i valori forti l'unico valore forte che è rimasto nella società liquida è il valore del denaro che nell'antica roma si chiamava solidum solidum noi diciamo che è liquido liquido la liquidità no la liquidità beh insomma la notizia io la leggo è cosa fa oggi per campare svolta a luci rosse di colminetti e qua ci sono tante notizie vedete nicolminetti aveva annunciato vietato i minori 18 anni sito così di porta da cospia poi avrebbe scritto scrivetemi in privato per più contenuti ma poi è stato il suo posto è sparito mistero 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 insomma diciamo che si trova in cattive acque io ce l'ho 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 una una soluzione per 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 nicolminetti io ce l'ho la soluzione per nicolminetti ce l'ho Ci sono oltre un milione di badanti straniere, badanti che sono pagate bene, badanti che vengono dalla Romania, insomma dall'Europa orientale, Romania, Polonia, Ucraina, anche Federazione Russa, ma alcune badanti vengono anche dalle Filippine, Nicol Minetti, qualcuna viene pure dalla Nigeria, sono pagate bene le badanti. Fai la badante, Nicol Minetti, fai la badante, dai retta a Serafino Massoni, capito? Perché su OnlyFans non fai quattrini, capito? Poi magari da porno star puoi fare la escort, ma anche come escort non c'è tripa per gatti, poi si finisce la carita, dai retta a me, Nicol Minetti, che io sono Serafino Massoni, vedi? Sono una persona saggia, ho quasi 82 anni e su Youtube ho circa 11 milioni di visualizzazioni, quindi sono un opinionista che sa quello che deve dire. Mi raccomando, Nicol Minetti, capito? Mettiti sulla strada corretta, che è quella che ti fa guadagnare qualcosa. Fai la badante, che c'è tanto bisogno di badanti in Italia, hai capito, Nicol Minetti? Cara, io te voglio bene, Nicol Minetti, sai? Va bene, Nicola Minetti, a te, cara, e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni. Serafino Massoni. Serafino Massoni.